Recuperare un bene confiscato e restituirlo alla collettività con una funzione propria di un territorio a forte vocazione turistica sarebbe un segnale importante. Non significherebbe calpestare vincoli e paesaggio, in quanto gli enti firmatari del protocollo, che potrebbe essere steso anche alla prefettura, sarebbero garanzia di una corretta e attenta valutazione. Significherebbe dare una prospettiva ad una struttura lì presente da mezzo secolo. Così l'ex sindaco di Castellabate Costabile Spinelli, nel focus di approfondimento andato in onda sulla nostra emittente, risponde all'ex presidente del Parco Tarallo e ai due senatori del Movimento 5 Stelle Castiello e Lamura per quanto riguarda la vicenda Castelsandra. Se non c'è capitale, se non c'è risorsa, se non c'è investimento, questa struttura uno non la recuperiamo e due se la recuperiamo non la manteniamo. Io credo invece che le risorse pubbliche vadano spese, vadano investite nei servizi, nella sanità, nell'ospedale di Agropoli, perché quelle sono le strutture, quelle sono le cose che devono essere portate, sulle quali bisogna investire in termini di efficienza, di personale e per dare servizi importanti ai cittadini. Quella struttura che, recuperata, può essere un volano, si può aprire anche all'apporto con tutti i grismi dell'attenzione, della legalità e del controllo, con l'intervento della prefettura, con l'intervento dell'antimafia, con tutti i controlli che noi vogliamo mettere a garanzia di tutti per vagliare questi polsi, ma una struttura che ritorni nella sua funzione, che crei ricchezza, che possa mantenersi nel tempo, perché rischiamo altrimenti di creare una cattedrale nel deserto che poi non si mantiene se non produce almeno risorse per autosostenersi, per mantenersi. Non entro in polemica con Tarallo, però la visione diversa è quella di recuperare un bene, lo scempio secondo me sarebbe quello di abbattere completamente e lasciare una ferita incolmabile in una montagna, in una collina, quello sì sarebbe uno scempio. Recuperare significherebbe dare, far ritornare alla collettività, ritornare un bene che può essere un patrimonio che crea posti di lavoro, che crea in un posto dove noi abbiamo necessità di posti letto, di strutture, di eccellenza, perché abbiamo un territorio a forte vocazione turistica, non abbiamo fabbriche o indotti industriali o comparti industriali, abbiamo la più grande industria che è il turismo, quindi il turismo ha bisogno di infrastrutture. Se questa c'è e noi riusciamo ad attirare una grande catena che è presente in tutto il mondo, che arriva nel nostro territorio, investe e crea ricchezza, io non vedo che cosa c'è di cui noi possiamo scandalizzarsi. Anzi, noi dobbiamo attrarre risorse nei nostri territori, attrarre capitali e attrarre generatori di ricchezza, perché un'attività del genere diventa generatore di ricchezza. Lo dichiarava ai nostri microfoni attraverso un'intervista proprio l'ex sindaco di Castellabate Costabile Spinelli, quattro anni fa in occasione della firma del protocollo d'intesa. La presenza al tavolo, alla sottoscrizione del protocollo del parco della sovrintendenza e la presenza del prefetto è elemento di garanzia, perché io pretendo e voglio che intorno al comune di Castellabate e ad accompagnare me in questo percorso ci siano queste figure istituzionalmente competenti, perché noi dobbiamo salvaguardare la natura, salvaguardare il paesaggio, salvaguardare il territorio con un consumo di suolo intelligente e soprattutto evitare disfunzioni durante questo percorso amministrativo. Motivo per cui chiedo a tutti questi enti di essere vicini al comune di Castellabate in questo percorso molto difficile e molto impegnativo. Però ritengo che chi oggi alimenta queste polemiche vive in un altro mondo, vive al passato in una consapevolezza, in una cognizione delle difficoltà di dove oggi ci troviamo. Il vero reato, il vero problema ambientale secondo me rappresenta dall'abbattimento totale di questa struttura, che resterebbe una montagna squarciata e che a quel punto veramente sarebbe irrecuperabile. Invece io credo che un recupero sostenibile, compatibile dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della natura, del paesaggio, possa rappresentare veramente qualcosa che fa diventare un bene sottratto alla criminalità in una risorsa. E questa è la sfida, questo è l'obiettivo e per questo stiamo lavorando. Le sue affermazioni non sono modificate. Ora ci auguriamo che quel bene contiscato alla criminalità organizzata, che è stato restituito al comune di Castellabate, possa avere una svolta positiva per il territorio e mettere fine ad una vicenda che dura da quasi mezzo secolo.